Beh, sono... io sono... Sara, hai mai fatto l'amore con più di un uomo alla volta? Le domande a cui dovrai rispondere dal banco dei testimoni e ti chiederanno anche se Lerio o altri uomini ti hanno mai malmenato e se ti è piaciuto ti chiederanno di quel mezzo grammo di coca quanto bevi in un giorno per tirare il collo all'ansia e quante canne ti fai e se vai spesso nei bar da sola e se indossi o meno biancheria intima quando ci vai quali malattie hai avuto e quante volte hai abortito io mi opporrò a tutte queste domande e qualche volta il giudice mi appoggerà ma qualche volta no la prima da raggiungere è dioste lì seduta io aspetto ovviamente tutti a parte me perché purtroppo io non ce l'ho all'epoca avevo incontrato un tizio e deve stare con lui che avevo smesso di insomma me ne sono andata di casa preferivo vivere con un ragazzo anziché con i miei così non appena ho potuto ci sono saltata sopra sì sull'occasione Sara tu sei un testimone ed è interesse della difesa dimostrare alla giuria che sei un testimone marcio perché hai marcio il carattere sai perché ti ho assunto io assumo sempre lo stesso tipo di ragazza alla moda magra ovviamente e che bene della rivista ma capita poi che si ribellino spesso non lo so deludenti e stupide grazie grazie